Anche quest'anno gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Padula sono stati a Napoli per ricevere i riconoscimenti ottenuti per il loro impegno e l'attenzione dedicata ai monumenti del territorio. I ragazzi della dirigente scolastica Liliana Ferzola già in passato erano riusciti a distinguersi nell'ambito dell'iniziativa Adotto Monumento, rivolto alle scuole italiane, per sensibilizzare i giovani verso la cura del patrimonio storico-culturale di cui è ricca detentrice l'Italia. Un'iniziativa che per l'anno scolastico 2018-2019 ha raccolto un numero importante di progetti presentati da 1.300 scuole che operano in 450 comuni italiani da nord al sud. Delle migliaia di progetti pervenuti sono soltanto 66 le scuole che nella giornata di ieri hanno ricevuto le medaglie di riconoscimento durante la cerimonia che si è svolta nella bellissima location del Teatrino di Corte di Palazzo Reale in piazza Plebiscito a Napoli. E tra queste 66 ad essere premiate tutte le classi di Padula che lo scorso anno hanno presentato i loro progetti. In una sala gremita da giovani ammiratori della storia e della cultura del paese, i ragazzi che nell'anno scolastico 2018-2019 frequentavano la terza B del liceo scientifico Pisacane sono stati premiati con la medaglia d'argento per il progetto di adozione del Battistero Paleo Cristiano di San Giovanni in Fonte guidati dal docente referente Vincenzo Maria Pinto. Medaglia d'argento anche per i ragazzi che lo scorso anno frequentavano la terza A e la terza B delle scuole secondarie di primo grado che guidati dalla docente referente Carmela Pessolano e dalla responsabile del plesso Maria Antonietta Prisco hanno adottato la chiesa e il convento di San Francesco a Padula, progetto premiato nella giornata di ieri a Napoli. Il premio è stato riconosciuto per il lavoro video realizzato dagli studenti che in tre minuti hanno spiegato il motivo della scelta di adozione del monumento, descrivendone la bellezza ed evidenziandone le peculiarità e la volontà di recupero. I video saranno presto visibili online sul sito di Atlante Nazionale dei Monumenti dove già è inserito l'eremo di San Michele alle Grottelle di Padula, progetto vincitore della passata edizione. Diventano quindi tre i monumenti inseriti nell'Atalante grazie al lavoro attento degli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Padula. Un dato che riempie d'orgoglio la dirigente scolastica Liliana Ferzola che nell'ambito dell'istituzione scolastica è da sempre impegnata nel cercare di educare i giovani al maggiore amore e rispetto verso la propria storia raccontata attraverso monumenti di inestimabile valore culturale. Un impegno che si punta a garantire anche per i prossimi anni.